In quel medesimo periodo, a certo punto, io, Alberto Radius, Vistempera, Gianni Dall'Aglio, e Bob Callero, Gabriele Lorenzi, abbiamo fondato Il Volo, non quello che ha vinto Sanremo. Un supergruppo. E in quel periodo, siamo già entrati nel periodo dell'impegno politico, non so se lo ricordate, per i miei anni 70, e io ho conosciuto una bellissima ragazza. In uno spettacolo che abbiamo fatto io e Teo Teocoli, lui dice che mi ha fatto diventare i capelli bianchi a 30 anni. Voi potete immaginare che è la ragazza? Qualcuno ha visto la trasmissione di The Belved? Ecco. E io per lei ho scritto parecchie canzoni. Tra l'altro c'è qua un mio amico Gianni Daldello che ha vissuto questo periodo con me, perché questo pregio Banda per te, che ha fatto insieme anche a Walter Calloni, che è qua con noi. Alla batteria c'era Walter Calloni! Io per lei ho scritto questa canzone. E la luna busso alle porte del buio E la luna busso alle porte del giudizio, ma la voce sbagliata decisò del mio tempo. Quindi spalancò le finestre del vento, se ne andò, cercare un po' più l'acqua, che cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no, che le disse il mare. E la luna busso due chiavi da sole, quello sguardo non si accorse di mille. E da allora provò ad un patto in piscina, senza evitare entra nemmeno la luna. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò, a cercare un po' più l'acqua, che cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no, per un altro no, di un camioniere. E allora giù, quasi per caso, all'egipia di un bambino, per potersi addormentare. E allora giù, quasi per caso, all'egipia di un bambino, per un altro no, per un altro no, per un altro no, per un altro no, per un altro no. E allora giù, quasi per caso, all'egipia di un bambino, per un altro no, per un altro no, per un altro no. E allora giù, quasi per caso, all'egipia di un bambino, per un altro no. Grazie. Grazie. Grazie.